Ciao a tutti, io sono il Dilan Lorofilo. Oggi recensione dell'album in sile numero 286. Attenzione alla mia remoscia. Programma di rieducazione, niente meno, aiuto. La copertina è di Angelo Stanno, mi è piaciuta, è decisamente dettagliata qui nelle parti alte. Il disegno che viene proposto è veramente pertinente a ciò che troveremo all'interno di questa avventura e non va neppure a spoilerare un particolare evento, quindi ci siamo da questo punto di vista. Peccato che qua su questo monitor, qui vedete tutti i dettagli dappertutto, ma qua sul monitor mancano i dettagli, ma nulla di drammatico, sono veramente peli nell'uovo. La colorazione è buona anche lei, vedete in questo laboratorio segreto, abbastanza cupo, molto buono. Forse il laboratorio visto all'interno di questa avventura sarà un pochino più luminoso, però nulla di trascendentale. Testa di sceneggiatura di Denard e disegni di Dallagnol. Di che cosa parla questa avventura? In pratica c'è un programma di rieducazione avanzato da uno studio di alcuni scienziati. In pratica si prendono dei criminali molto feroci e attraverso un particolare sistema fantascientifico si andrà ad impiantargli nella testa delle informazioni per cui il criminale dopo non va più a fare del male, ma va a fare del bene. Insomma gli cambiano il cervello, gli fanno un lavaggio del cervello fantascientifico. È come avere un hard disk che viene formattato e dopo riempito di nuove informazioni. In pratica Dylan come entra in questo caso? Entra perché è un impiccione come al solito. In realtà non c'è nulla su cui indagare, non viene ingaggiato da nessuno. È lui semplicemente che fa il curiosone. e ritrova in giro per le strade di Londra in un supermercato un criminale che ha acciuffato i tempi di Scott Nagliardo e lo vede in giro e si domanda ma non doveva mica scontare del gastro questo criminale invece a piedi libero e allora per questo motivo tenta di fermarlo. Poi Block spiegherà a Dylan che questo criminale in realtà appunto sta facendo questo trattamento quindi non è più pericoloso. Ma Dylan ci crede poco, crederà poco anche agli altri poliziotti che interverranno in questa avventura e allora vorrà vederci chiaro. Prima di permettere diciamo a questi scienziati di lasciare andare a piedi liberi un criminale Dylan vuole vedere con i suoi occhi, testare con mano che questo criminale non è più pericoloso. In questa situazione De Nardo andrà a sviluppare una trama veramente molto buona le fasi iniziali sono convincenti quindi c'è non un altissimo tasso, anzi forse non c'è per niente il panorama come vi dicevo in fase di presentazione più a sfondo scientifico e diciamo fantascientifico più che altro però ci sarà un finale abbastanza buono verso la fine quindi diciamo a tre quarti dell'albo la spiegazione sarà pulita quindi non c'è questo tema fantascientifico che non è plausibile anzi è tutto spiegato molto bene ed è tutto ed è tutto possibile quindi De Nardo riesce a stendere bene questo tipo di soggetto diciamo sto vedendo gli appunti sulla mia destra forse leggermente scontata una fase verso il finale ma nulla di drammatico dopo il finale comunque si risolleverà ad ogni modo poi successivamente parlando del modo in cui viene raccontato questa nel modo in cui viene raccontata questa vicenda vi dirò che è un po' come leggere il diario di Dylan Dog sapete che alla fine di quasi ogni avventura il nostro indagatore dell'incubo tiene nota di quello che è successo sul suo diario personale ecco qui ci sarà questo stile di narrazione vedete non è la classica storia dove Dylan parla al passato ma sarà tutto ben più fruibile insomma mi è piaciuto il modo in cui è stato steso questo racconto non è nemmeno non appare nemmeno come un flashback infinito ma è davvero ben steso bisogna leggerlo per comprendere bene ciò che voglio dirvi inoltre quando su Dylan Dogo troviamo delle fasi di flashback o comunque gente che parla al passato spesso magari si perde il filo della vicenda perché affiancando andando ad affiancare vicende passate con vicende presenti talvolta si fa confusione si perde appunto il filo del discorso invece qui è tutto molto pulito molto lineare insomma De Nardo che va a ricreare un po' un concetto di narrazione differente su Dylan Dogo che in quest'occasione mi è piaciuta è davvero molto raro trovare uno stile di narrazione di questo tipo parlando dei disegni di Dallagnol fortunatamente quest'artista riesce ad adoperare molto bene tutte queste 98 tavole 94 tavole riesce proprio a stendere dei disegni molto buoni perché in alcune occasioni sono rimasto sorpreso vi dirò che il tratto di Dallagnol è composto da quattro linee proprio pochissime linee e con tre o quattro linee riesce a formare volti, personaggi, le corporature insomma è strabiliante Dallagnol in questo albo diciamo in questo suo lavoro ci sono poi, attenzione dei momenti in cui la coprotagonista femminile diciamo la attuale quasi ragazza di Dylan di questa avventura che verrà caratterizzata in maniera strabiliante proprio dai tratti di Dallagnol solitamente le donne viste da Dallagnol sono un po' tutto uguale hanno tutte la stessa faccia le stesse espressioni invece qui ci sono dei sottili lineamenti negli occhi dei giochi di sguardi delle posizioni anche qui magari della bocca magari questa di vignetta non c'entra niente con quello che vi sto dicendo adesso vediamo se riesco a pescare quella più significativa insomma ci sono delle micro espressioni in questa ragazza che fanno capire tutto anche senza il bisogno delle parole dello scrittore anche senza bisogno dei dialoghi quindi Dallagnol che riesce ad esprimersi veramente in maniera eccezionale in questa avventura magari non era neppure questa ma insomma fidatevi di quello che vi dico ho trovato delle sfaccettature delle sottilissime delle sottilissime espressioni decisamente marcate in questa ragazza ci ho detto fortunatamente questo tratto riesce a trasportare bene anche le poche atmosfere creepy che ci saranno in questa avventura quindi non ho trovato un po' il senso di paura però pazienza la storia è comunque buona il finale è decisamente buono come vi dicevo anche prima questa invece è la faccia di una suora vedete come con quattro linee però quattro linee riesce a comporre un volto intero lo invidio da questo punto di vista è davvero una cosa decisamente particolare ci ho detto voto finale che vada ad assegnare a questa avventura tranquillamente un 8 meno non stiamo parlando di incubo vero e proprio ma di una sorta di fantascienza integrata nel mondo di Dylan Dog che va a sposarsi bene anche con questo personaggio quindi De Nardo ha proposto questo suo esperimento secondo me è uscito molto bene un albo che merita di essere letto per tutto quello che per motivi che vi ho elencato finora per un momento è tutto se questa recensione in qualche modo ti è stata utile se ti è piaciuta condividila dove vuoi iscriviti al canale youtube di Dylan Dog è un importantissimo per venire sempre aggiornato sul personaggio di Dylan Dog e noi ci vediamo in una prossima recensione dedicata al mondo dell'indagatore del link